Daniela, Chuck 2, seconda giornata di prove slide. Quindi bisognerà spingere il tallone in avanti, ok? Addirittura se non è così, deve essere quasi così. Tu adesso ce l'hai così, ok? Nel momento in cui appoggi ce l'hai così, è per quello che tiene grip, perché le ruote non sono nella posizione corretta per perdere il grip. Nel momento in cui tu appoggi la ruota così, non poter tirare ad andare in un'eserciabilità.